Eccoci qua ragazzi, benvenuti, benvenuti. Allora, qualcuno me l'ha chiesto, ve lo faccio vedere al volo, poi, poi basta. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il Drago Bianco, occhi blu, in prima edizione del set. La leggenda è il Drago Bianco, occhi blu. Prezzo? Suka. Questo è il prezzo, proprio c'era scritto sul sito. Il tuo prezzo, due punti, Suka, è una valuta nuova che si usa su internet, è tipo una criptovaluta. Allora ragazzi, io non ho mai parlato di questo manga. È la prima volta in assoluto che ne parlo, è la prima volta in assoluto che parlo di quest'autore. È un manga molto particolare, non l'ho nemmeno mai citato, credo, in una live, quindi è la prima volta in assoluto che parlo di questa roba. E sono molto contento anche perché è un manga che in un certo senso si distanzia da tutti i manga di cui ho parlato nei precedenti mercoledì, durante il nostro momento manga. No, non è Dragon Ball, è Andrew Jackson. Innanzitutto do un po' di contesto. C'è un autore che in Italia ha avuto un destino, cioè diciamo curioso, ecco. Cioè più che altro è conosciuta, è più conosciuta una delle sue più grandi creazioni, una delle sue creazioni più popolari, anzi due delle sue creazioni più popolari, che è l'autore stesso. Anzi, aggiungo che è famosissima la trasposizione anime, anzi le trasposizioni anime di queste due sue creature, che è lui. Infatti se io vi dicessi Ideo Azuma probabilmente pochissimi di voi sapranno di chi sto parlando, ma se vi dico Pollon sicuramente tutti sanno di che cosa sto parlando. Pollon è un anime che è andato tantissimo, è stato anche un anime possiamo dire multigenerazionale, perché secondo me ne ha preso due o tre, è stato visto bene o male da tutti, non voglio parlare di Pollon assolutamente, ci mancherebbe. Però ecco, è stato un anime che ha fatto breccia nei quali di tutti, perché era molto simpatico, era super colorato, rivedeva la mitologia greca in maniera molto ironica, demenziale, grottesca, come piace tanto fare ai giapponesi quando si parla di gag manga anni 80 e 90, e l'autore ovviamente aveva creato il manga originale, e l'autore si chiama appunto Ideo Azuma, solo che qua in Italia per J-pop è arrivato un suo manga molto molto interessante, che non ha a che fare con personaggi di fantasia, non ha a che fare col fantasy, con le loli, altro grande tema che Ideo Azuma ha trattato più volte, non si parla di scuola, non si parla di avventure, non si parla di niente, è anzi una storia molto terra-terra, è una storia autobiografica, ed è una storia che va a toccare l'animo umano in maniera totalmente imprevista, ma estremamente sincera. Un'opera che mette in gioco delle situazioni che si possono, sì, inquadrare con il genere o col sottogenere, chiamatelo come vi pare, slice of life, però allo stesso tempo è talmente brutale in quello che racconta da far venire i brividi, soprattutto pensando che l'autore è giapponese ed è un autore che si espone al 100% con il proprio pubblico e con i propri lettori, sbattendosi nel cazzo delle vendite di quello che i lettori stessi possano pensare di lui. Il manga di cui sto parlando si chiama Il diario della mia scomparsa, di Ideo Azuma, appunto. È un volumetto singolo che si trova, quindi è per la prima volta forse che vi parlo di un manga che si può effettivamente comprare, e è un volume unico appunto e costa 12,90€. Di che cosa parla questo Il diario della mia scomparsa? Parla dell'autore stesso, quindi del nostro Ideo, che a un certo punto, per dei motivi che verranno spiegati in seguito, anche qui farò di spoiler fino a un certo punto, anche perché è uno slice of life, si parla di... insomma, diciamo che è un manga strutturato per situazioni, quindi anche se facessi degli spoiler, ecco, solamente leggendolo potrete capirlo e apprezzarlo al 100%, quindi bisogna effettivamente parlarne, o comunque parlare degli eventi che mi hanno colpito di più per cercare di descrivervi l'opera a 360 gradi, quindi qualcosa effettivamente vi dirò di quello che succede all'interno del libro. Comunque, l'autore, che ovviamente è autobiografico, quindi nel mezzo di vari lavori che sta portando avanti, di varie testate di storie che sta portando avanti su alcune riviste, a un certo punto perde completamente la brocca, scappa di casa, inventandosi la classica scusa vado a comprare le sigarette e decide a poco a poco, prende coscienza che vuole iniziare a vivere come un clochard, come un barbone, come un senza tetto. E quindi inizia questo suo percorso dove vediamo la sopravvivenza proprio di quest'autore, che è un ex mangaka, che decide appunto di imparare a vivere come un clochard in Giappone. Ed è una cosa molto particolare perché lui descrive tutto, non si autocensura, non glissa sugli eventi anche più scioccanti come ad esempio un tentato suicidio fatto sulla pendenza di un monte mentre è ubriaco Fradicio, quindi questo è uno degli eventi sicuramente più assurdi perché lui continua a mantenere il tratto da gag manga, come potete vedere. Vedete? Cioè, tavole molto piene, tutte piene di questi quadrettini minuscoli, tutti piene di dialoghi, di occhioni giganteschi, di corpi tozzi, proporzioni ovviamente cibi, questi paesaggini, questi no, queste espressioni un po' stupidine, un po' grottesco, con questo occhio super aperto e poi l'altro fatto a puntino. Insomma, continua ad avere questo tratto e continua ad avere appunto un linguaggio demenziale grottesco che utilizzava anche per Pollon, vi ricorderete le situazioni assurde, anche semi erotiche, che c'erano, a volte anche totalmente erotiche che c'erano in Pollon, ecco, prendete questo stile, prendete questo mood e traslatelo a un tizio che decide di vivere come un clochard che va a cercare gli avanzi nei cassonetti, che tenta il suicidio, che è sempre ubriaco, che quasi muore dal freddo mentre dorme in una foresta, che fa gli interrogatori con la polizia perché credono che sia un assassino, un ladro, comunque un poco di buono, ecco, e avrete un cocktail veramente assurdo, una lettura estremamente singolare, perché ridi della demenzialità, delle situazioni, però allo stesso tempo ridi a denti stretti, perché comunque questo qua sta prendendo una corda, la sta girando intorno a un tronco e se la sta portando al collo per potersi poi uccidere, per potersi appunto impiccare in un bosco, quindi non riesci veramente a interpretarla fino in fondo all'inizio, poi piano piano inizi a capire che quello è lo stile dell'autore e ha voluto scherzare, ha voluto utilizzare la tecnica dell'autoironia per poter portare avanti la storia e per poter comunque continuare a manifestare il suo stile, però allo stesso tempo vuole mettere in guardia un po' tutti su alcuni determinati aspetti della vita di un artista, ma di questo parleremo dopo, ma soprattutto vuole raccontare anche per educazione ai propri lettori perché a un certo punto lui ha deciso di sparire dalla loro vita, perché ha deciso di non pubblicare più niente, comunque di non produrre più tavole ed è scomparso. La moglie, tra l'altro che faceva da assistente a Ideo Azuma, a un certo punto l'ha visto sparire eppure ha continuato a lavorare, ha continuato a portare avanti la baracca, ha continuato a cercare di mantenersi, mantenere se stessa e anche la casa. Lui invece andava, vagava nei boschi in pieno inverno, cercava appunto nei cassonetti una scatoletta, andava dietro i supermercati, dietro i combini a cercare gli avanzi o la roba scaduta per poterla mangiare. La prima parte è molto interessante perché assomiglia veramente a un videogioco survival, scusatemi questo paragone assurdo, cioè c'è quest'autore che insegna, proprio quasi come un manuale, e la struttura delle tavole sicuramente aiuta in questo, insegna ai lettori come poter vivere, scusate, come poter vivere da barbone, cioè come cuocere i cibi, come disinfettarli, dove si possono trovare i cibi avariati, dove si possono trovare delle monete o delle banconote addirittura abbandonate e come poterle utilizzare, come poter sopravvivere da barbone se sei pure alcolizzato. Quindi come faccio a procurarmi l'alcol e dove trovo l'alcol al minor prezzo possibile se per poter vivere io devo mantenere anche questo vizio, mantenere anzi la mia malattia, il mio alcolismo. L'autore, con il suo appunto stile, soprattutto i primi capitoli viaggiano alla velocità della luce perché lo stile e i dialoghi sono abbastanza diretti, comici, le situazioni sono veramente paradossali, quindi diciamo che scorre bene la prima parte del manga perché è divertente, però allo stesso tempo è anche estremamente interessante perché te vedi la società giapponese attraverso gli occhi di un clochard, non solo, è un clochard che ha uno spirito analitico completamente diverso da un clochard normale che magari faceva l'operaio, l'impiegato o un altro lavoro che non riguarda l'arte e quindi lui attraverso il suo occhio, attraverso la sua analisi e soprattutto la sua comicità riesce a comunicarci delle cose che magari in mano a un altro autore o addirittura a un altro tipo, magari a un romanziare eccetera, ci ammorberebbe il cazzo. Quindi non è solamente interessante, non è solamente divulgativa, informativa la cosa ma è anche divertente da leggere, quindi non si perde la funzione del fumetto. Poi a un certo punto, dopo appunto aver spiegato ai lettori come ricavarsi un letto, delle coperte, il cibo, l'alcol e tutto, quindi dopo questo manuale di sopravvivenza e questa storia appunto di grande disagio, si passa alla seconda parte del manga ovvero Ideo Azuma che cerca lavoro. Cerca lavoro perché ha bisogno di soldi, perché lui non riesce più a sopravvivere solamente con le banconote o le monetine trovate nella sezione dei resti, nella zona dei resti delle macchinette automatiche. Quindi decide di lavorare come operaio per un'azienda, per un'azienda appunto che fa dei lavori di idraulica eccetera e fa degli scavi e tutto, quindi proprio va a lavorare in cantiere. E la cosa strana è che comunque questo ambiente è mega tossico per lui perché chi lo indirizza a questo lavoro è un poco di buono, cerca sempre di incularlo, di rubargli soldi, i colleghi non è che siano proprio dei colleghi straordinari e quindi lui continua questo disagio, continua questa sua vita, questo suo periodo non da eremita però da ecco da reietto della società giapponese e noi vediamo il lavoro, continua questo attraverso il lavoro. Continua questo suo percorso, si procura dei soldi, si procura un posticino dove dormire quindi diciamo che si allontana poco poco dalla vita di Barbone a 360 gradi cioè che deve nascondersi nei parchi dietro gli alberi per non farsi sgamare dalla polizia perché effettivamente trova un piccolo lavoro che però non ha niente, niente a che fare con il manga, a parte quando partecipa a una pubblicità, disegna delle tavole e viene addirittura pubblicato, intervistato però l'editore che pubblica la sua pubblicità a fumetti non si accorge che è Ideo Azuma e quindi lui si sente ancora più svilito da questa cosa ma a mio parere la sezione più interessante, perché ci sono dei capitoli e ci sono delle sezioni nel manga la sezione che mi ha entusiasmato di più è sicuramente quella dove Ideo Azuma spiega il motivo del perché ha fatto quella scelta, noi non lo scopriamo all'inizio della storia noi lo vediamo già fuggire e già muovere i primi passi per diventare un Barbone ad un certo punto però ci viene spiegato il perché, perché fa questa scelta ed è lì che tremano le ginocchia se è una storia vera è tutto vero, tutto quello che troverete qui dentro al diario della mia scomparsa è tutto vero, è tutto autobiografico, è tutto realistico a parte ovviamente le scenette, i capitoli e tutto il resto è inquietantissimo capire perché lui ha fatto questa scelta perché non è una scelta che fanno in pochi in Giappone che ha la scelta di diventare, di darsi al barbonaggio i motivi sono molteplici, cercherò di dirvi quelli che mi hanno colpito di più proprio per non rovinarvi il piacere della lettura parla di arte, si parla di crisi si parla di blocco dell'artista, blocco dello scrittore, blocco del mangaka chiamatelo come vi pare e poi si parla soprattutto di una cosa che non avevo mai visto trattare così ovvero della paura, dell'ansia di essere diventati le parodie di noi stessi che cosa vuol dire? a un certo punto delle nostre carriere che tu faccia l'artista, che tu faccia l'operaio, che tu faccia il dentista qualsiasi sia la professione ma soprattutto in campo artistico a un certo punto ripercorri sempre gli stessi passi fai sempre le stesse scelte continui a utilizzare le stesse tecniche gli stessi mezzi per ottenere quello che vuoi e ad un certo punto hai talmente utilizzato questi stratagemi per conquistare pubblico, per ingannarlo anche che vai in ansia che ti senti un impostore che ti senti un artista morto che non ha più idee e che è costretto a riciclare se stesso questa è veramente una cosa che mi ha terrorizzato perché uno dei terrori più grandi di chi fa quello che faccio io ma non solo è proprio questo è quello di rimanere fermi in un punto e fare sempre le stesse cose fino all'alienazione poi scatta la depressione e poi scattano dei gesti dei gesti inconsulti o tragici nel caso di Idoiazuma questa paura si è manifestata questa paura si è fatta poi disagio e questo disagio si è poi tramutato in una fuga in una fuga dall'ambiente familiare in una fuga dai figli in una fuga dal lavoro dalle consegne da tutto e quindi via via dei barbonacci poi ovviamente ci incastra anche l'alcol che ovviamente ha dato una bella botta alla psiche del nostro autore peggiorandoli sicuramente la situazione però veramente questa cosa è una roba che mi ha toccato particolarmente perché l'alienazione soprattutto nell'arte è sempre dietro l'angolo per quello io cerco sempre di proporre novità di fare cose nuove di sorprendermi sorprendendovi perché che se si rimane bloccati o addirittura si viene inglobati dal proprio ego è la fine è la morte non solo dell'arte ma anche di noi stessi l'alienazione poi è un problema che c'è un po' in tutti i lavori quindi bisogna sempre cambiare aria fare altro cambiare amicizie o comunque cercare di trovare nuovi stimoli per poter vivere e non sopravvivere ecco ecco perché l'idea Azuma si è staccato da quella roba lì la vita del mangaka la vita del fumettista in Giappone è inquietante è fatta di ritmi stressanti è fatta di consegne è fatta di editor che ti fanno il culo che ti urlano in faccia di colleghi infami e soprattutto di poco tempo a disposizione per te quindi o ti ubriachi la sera con il tuo editor oppure non fai un cazzo e quindi lui ha deciso di trovare degli stimoli nuovi proprio nel barbonaggio infatti c'è anche un'intervista a fine volume molto interessante lui dice che addirittura la vita da Clochard quando ti ha imparato tutti i mezzi per poter sopravvivere e mangiare eccetera è anche stimolante da un certo punto di vista ovviamente si sta parlando del Giappone si sta parlando di altre realtà si sta parlando di un autore di manga che comunque aveva una casa aveva una moglie ad attenderlo e che una moglie anche pronta a questi suoi capricci quindi è un discorso un po' particolare il suo non sto paragonando ovviamente il suo barbonaggio a chi purtroppo è davvero senza un tetto e senza cibo sotto ai denti soprattutto in Italia quindi premetto questo fatto sta che ha trovato appunto stimolante il fatto di dover sopravvivere e parecchio soddisfacente il fatto di vivere giorno dopo giorno all'insegna della scoperta della sorpresa perché comunque ci sono tante situazioni che poi ha preso e ha trasformato in tavole manga successivamente questo libro lo abbiamo solo perché lui ha fatto questa scelta completamente folla e sconnessa l'ultima parte del libro è quella sicuramente più dark è quella più brutta nonostante mantenga sempre il suo stile appunto scemo surreale da gag manga e tutto il resto quindi molto morbido arioso e quello che volete voi si parla ovviamente di alcolismo perché l'ultima parte è dedicato proprio a questo un problema che vediamo sempre in ogni capitolo in ogni fase di questo tomo ma che esplode nella parte finale perché a un certo punto il nostro idea Zuma fa i conti con l'alcolismo lui è alcolizzato lui appena appena alzato beveva beveva al sake poi continuava la mattina primo pomeriggio la sera fino a andare a dormire andava a letto briao poi si risvegliava e ricontinuava con quest'iter quindi alcolizzato puro a un certo punto questa roba diventa talmente pressante che inizia a svisionare inizia ad avere ad avere illusioni ottiche uditive e tutto e quindi viene ricoverato a forza in un ospedale inizia il suo percorso di abilitazione quindi l'ultima parte è proprio è proprio questo la riabilitazione del nostro idea Zuma fino alla guarigione e adesso che vita fa adesso fa una vita spenta perché è morto due anni fa morto nel 2019 e quindi è morto di cancro all'esofago però ecco diciamo che è durato anche troppo per la vita che faceva si capisce subito da questo tomo la vita che ha fatto lui è stata una vita piena di piena di follie di cattiva alimentazione di alcolismo di insomma ragazzi una vita totalmente sconnessa pazza folle però ecco se volete conoscere un autore che sicuramente ha fatto ha fatto tantissime cose super allegre super colorate battute erotismo loli qualsiasi cosa e poi scopriamo che in realtà la sua vita ha avuto appunto questa questa svolta totalmente imprevista e pazza è presente su amazon ma io penso sia presente un po' dappertutto se potete compratelo però dal sito della casa editrice jpop ma lui era felice come ha detto nell'intervista appunto non è che cercava la felicità lui cercava semplicemente di evadere una roba che l'aveva veramente asfissiato non era felice perché ha tentato anche il suicidio semplicemente appunto cercava nuovi stimoli ma non per scrivere cercava nuovi stimoli nella vita e basta si era rotto il cazzo di tutto di tutte le convenzioni di tutte le scadenze eccetera ha preso è andato in un bosco e ha iniziato a dormirci a mangiarci e poi per fortuna questa roba l'ha trasformata in tavole a fumetti e l'ha trasformata in questo libro qua perché se ne parla così poco perché è un autore che a parte Pollon e e Nakano e Nanako S.O.S non è un autore che ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano a parte queste due serie che ripeto sono trasposizioni anime dei suoi lavori originali e se ne parla poco anche perché secondo me queste tematiche in Giappone sono ancora molto scomode o comunque si tende a non parlarne perché lui veramente con questo tono ironico che secondo me diventa inquietante dato che parla di di queste situazioni viene forse mal visto non so io qua tiro ipotesi tiro veramente a indovinare perché secondo me uno stile ironico cioè uno stile del genere si presta più che altro a dei manga ironici a dei manga comici con battute merda cazzate e non tanto ad alcolismo a suicidio a barbonaggio a come vivono i barboni comunque nei parchi pubblici giapponesi sono cose che secondo me per i giapponesi non vanno tanto insieme non collimano bene e si parla poco di quest'autore soprattutto qua ragazzi appunto per questo perché non è mai riuscito a sfondare come un'Oda un Toriyama che hanno fatto un manga super pop che fanno breccia su un po' tutti i tipi di pubblico consigli di leggere anche il manga di Pollon ma Tuco i manga alla Pollon sono particolari ti devono proprio garbare un po' come la Mu cioè sono manga che iniziano e finiscono cioè che hanno dei capitoli autoconclusivi con gag a diritto e basta quindi se vuoi seguire una storia orizzontale come spesso si fa quando si compra un manga ecco è meglio andare su altro rispetto a Pollon Madonna fa stranissimo pensare che chi ha fatto Pollon abbia avuto ecco questa è una cosa che volevo dire assolutamente secondo me va letto anche per questo perché prendere uno dei baluardi del gag manga degli anni 80 e pensare che abbia avuto una vita totalmente diversa rispetto a quello che poi effettivamente ha scritto sul rivista può veramente incuriosirvi e darvi quella spinta in più per leggerlo e apprendere di una storia folle e soprattutto è interessante perché dentro ci sono tantissimi richiami sul cibo sul lavoro sul lavoro anche proprio in cantiere dei giapponesi sul lavoro di mangaka sull'editoria giapponese cioè c'è di tutto c'è veramente di tutto e soprattutto ripeto la prima parte è veramente interessante perché capire come i clochard stanno cercano di vivere alla giornata di cucinare il cibo di bere come fanno dal lavaggio delle bottiglie alla cottura del cibo ripeto al trovare il posto giusto per dormire a ricavarsi una coperta per le temperature al fatto di trovare i giornali non tanto per apprendere notizie ma per capire che tempo che meteo ci sarà il giorno dopo per coprirsi o scoprirsi e per tentare di non morire assiderati insomma questa roba qua cioè è veramente molto interessante perché tutta la vita di stratagemi che se non leggi roba così non la scoprirai mai poi magari non bene frega nulla ma secondo me chi è curioso sicuramente rimarrà soddisfatto perché questo manga è pieno di curiosità curiosità sull'autore curiosità sulla vita dei clochard giapponesi curiosità sulla vita degli operai giapponesi e soprattutto sull'editoria giapponese quindi c'è è un grande purpurri ritmato bene dallo stile di questo autore di Azuba Dario pensi che la storia hub è dell'affinità con le storie Gekiga fino a un certo punto lo stile secondo me non si presta per lo stile Gekiga perché lo stile Gekiga era molto serio molto quadrato brutale questo è un altro tipo di brutalità e si avvicina molto di più al black humor secondo me che ne pensi le persone che fraintendono le critiche alla società giapponese come critica agli umani in generale è una bella domanda The King allora secondo me non bisogna fraintendere proprio una sega nel senso che i giapponesi sono umani sembrano un popolo alieno per alcune loro abitudini modi di fare eccetera però sono umani come noi quindi le critiche alla società giapponese possono essere critiche tranquillamente anche alla società italiana nel senso non mi stupirei ora è un po' più forse comune per un giapponese prendere e darsi al barbonaggio perché proprio ci sono anche tantissimi impiegati che decidono di di darsi al barbonaggio perché magari sono stati licenziati e da lontano subita o si ammazzano oppure si danno al barbonaggio ce ne sono tanti che lo fanno anche Omunculus bravissimo Omunculus è un'altra lettura simile a questa che ti spiega guarda cosa succede dagli impiegati che vengono licenziati che perdono tutto quello che hanno raccolto e che per paura della morte si danno al barbonaggio Omunculus inizia così e poi parte diventa una storia totalmente diversa da questa ovviamente qui nonostante lo stile è molto molto realistico è tutto molto molto realistico non c'è spazio per il surreale anzi è brutalissimo in certi punti soprattutto nelle due ultime fasi del manga ovvero quando racconta di come ha scelto di diventare barbone e del suo periodo di rehab amministrazione anche il campo di barboni di Yakuza 0 o quello per esempio di Tokyo Godfathers ecco anche Tokyo Godfathers io lo affiancherei a una lettura del genere il film di Satoshi Kon tra l'altro il mio preferito di Satoshi Kon perché Tokyo Godfathers nonostante sia una favola moderna rimane molto molto ancorata alla realtà alla fine è la storia di tre clochard che decidono di andare ad inseguire la madre di un bambino abbandonato nella spazzatura solo che queste tre figure rappresentano secondo me tre mondi del barbonaggio giapponese esatto situazioni che abbiamo in Italia sicuramente qualcuno può ritrovarci ci sono alcune cose come in Italia sono in Giappone cambia solo il contesto sì 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 ma ce ne sono tantissime insomiglianze tra giapponesi e italiani ve lo posso garantire anche se sembra strano è così anche in Samurai Gourmet il protagonista che non sa cosa fare dopo essere andato in pensione trova strano avere una birra a pranzo sentendosi anche in soggezione assurdo per farti capire come sono assorbiti dal lavoro è vero è vero ma anche in Italia succede questo ragazzi il mio suggerimento e anche Ideo Azuma dà questo suggerimento più e più volte secondo me a mezza bocca perché è un autore molto particolare che c'è pane pane era un autore molto particolare pane pane vino al vino parla in maniera schietta diretta non si vergogna niente non gliene frega un cazzo è un caso atipico per gli autori giapponesi che di solito si nascondono non nascondono il sudicio sotto al tappeto lui ha parlato al cuore dei propri lettori e i lettori hanno risposto di conseguenza perché l'hanno aspettato l'hanno aiutato l'hanno sostenuto quando dovevano farlo la sincerità paga sempre soprattutto nell'arte a mio parere ovviamente e lui è stato talmente sincero che si può solo imparare da questa cosa qua e soprattutto si può imparare ragazzi che se abbiamo perso una volta non è necessario perdere per tutta la vita magari si è perso una battaglia ma non la guerra continuate soprattutto voi che mi seguite siete giovani avete 20, 25, 30 anni avete ancora una lunga vita davanti una vita che può essere costellata da soddisfazioni gioie amicizie nuovi amori e tutto non vi buttate giù alla prima sconfitta l'idea da Zuman ha passati tutti i colori abbandonare il tetto coniugale barbonaggio alcolismo mancanza di idee editor che gli rompono i coglioni insuccesso di fumetti insuccesso di riviste serie troncata a metà ne ha fatto veramente ragazzi ha preso cazzi in faccia per tutta la vita eppure questo tomo è qua è qua ora adesso è tra le mie mani l'ho letto l'ho apprezzato ve lo sto consigliando lo leggerete anche voi quindi qualcosa di buono l'ha fatto no ha messo al nostro servizio il suo disagio ora non vi dico che dovete fare la stessa cosa anzi dovete cercare di sconfiggerlo quel disagio ma ecco arrendersi alla prima difficoltà non ha alcun senso non ha veramente alcun senso e questo tomo te lo insegna tantissimo e non è una roba che mi invento io si capisce bene è un messaggio che si legge bene tra le pagine di questo volume lui ha raccontato il suo tentato suicidio ne ha parlato ne ha parlato e ci dimostra che è stato pazzo a tentare di commetterlo perché comunque poi qualcosa ha ottenuto quindi non nascondiamoci perché se no è un casino i suicidi in Giappone continuano a aumentare ed è un problema molto grave anche proprio perché i giapponesi non ne vogliono parlare o se ne parlano ne parlano in maniera abbastanza frettolosa lacunosa non abbiate paura di affrontare questo argomento e qui ci ricolleghiamo al fatto che tutto mondo è paese e che tante di queste tematiche si possono ritrovare anche nella nostra società la società italiana ovvero che anche in Italia stanno aumentando i suicidi è in aumento anche la depressione tra i giovanissimi giovani e giovanissimi secondo me come al solito ragazzi come con Buonanotte Pum Pum che vi ho consigliato la scorsa settimana questa può essere una lettura catartica assolutamente non una cura ma può essere catartica cioè può aiutarci a interfacciarsi con autori che comunque sono stati pubblicati che hanno avuto il loro successo la loro nicchia di persone a seguirli e ad amarli hanno subito magari determinati problemi che state subendo anche voi in questo momento e quindi interfacciandovi con loro può aiutarvi Dario scusa lo spam mi interessa sul serio il tuo punto di vista secondo te come se ne esce da questi momenti bui ci hai già accennato altre volte di un tuo momento down in cui ti sei sentito inglobato dall'ego puoi raccontarci meglio magari puoi spiegare come affrontare il problema e uscirne Pietro Pollon tra l'altro guarda il tuo nome è proprio in topic con la lettura di oggi e sì e mi ricollego anche a questo che è un concetto che vi ho spiegato prima ovvero il fatto che uno dei motivi principali della scelta di fuggire dalla civiltà diciamo così è stato proprio il rendersi conto di essere degli autori parodia di se stessi di essere degli autori senza idee e che quindi si sentono apatici e poco volenterosi a mettersi davanti a delle tavole bianche per poter scrivere per poter disegnare un fumetto che vi assicuro ragazzi trovarsi davanti a quel foglio bianco che sia un copione per un video o che sia un fumetto da scrivere e da disegnare è veramente una tortura e una tortura che poi appunto può sostanziarsi in una fuga come quella del nostro ideo io mi sono ritrovato in quello che dice soprattutto nella postfazione con questa con questa intervista che gli è stata fatta mi sono ritrovato nelle parole appunto della parodia di se stesso perché a un certo punto io quando sono diventato di nicchia su youtube ovviamente per me c'è stato un momento di enorme down io ho detto cazzo ho lavorato tantissimi anni tante visualizzazioni tanti commenti grandi raduni e poi adesso faccio dei video che guadagnano un quinto delle visualizzazioni che facevo prima i commenti sono sempre meno e via e via e via questa roba qua ti manda in pappa il cervello totalmente perché ti senti una merda ti senti composto da numeri e quando ti senti composto da numeri cosa vuol dire vuol dire che quando calano inizi a perdere dei pezzi di te stesso inizi veramente ad andare in paranoia a ok tutto quello che ho fatto in questi anni lo perdo quindi ho buttato anni che potevo magari impiegare nello studio che potevo impiegare in un lavoro più sicuro iniziano veramente a a intrecciarsi ad accavallarsi delle delle paure delle fobie delle ansie che poi ti portano a produrre ancora meno perché quando sei così in ansia come ci dice tra l'altro il tiro della mia scomparsa quando sei talmente pieno di roba in testa di roba ovviamente tossica poi non fai più niente e quindi fuggi la mia fuga è stata pubblicare sempre meno dato che io davo quasi la colpa al sistemano e il sistema ad essere sbagliato ovvero facciamo un paragone con il diario della mia scomparsa i grandi autori fanno vendite hanno successo soldi io sono un mediocre perché faccio poche vendite perché faccio pochi soldi no io avevo solamente messa a fuoco male io non avevo capito che la colpa non era di che cazzo Frank Matano scurreggia sulla gente da un milione e mezzo di visite io non avevo ragionato bene su quel numero io non l'avevo scorporato io non avevo pensato alla qualità del numero ho pensato semplicemente alla quantità al numero stesso e quando fai così sei salvo perché quando vai a leggere i commenti non leggi più il numero ma leggi proprio tutti i commenti e soprattutto che cazzo ti scrive la gente perché quei commenti si erano trasformati quando facevo i video su Dragon Ball i commenti erano ah 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 grande Dario quando invece ho iniziato a fare video su Rasawa su Yamamoto su Ushukyo Dai su questa gente qui i commenti erano diventati papiri papiri di gente che condivideva le proprie opinioni che si confrontava con me che mi ringraziava in maniera molto animata erano commenti di un'altra caratura erano commenti di persone vive non di un numero vacuo che poi alla prima occasione appunto si è andata a sfaldare quando ho smesso di dire pumpatemi la fava e rasponi a due mani ed è un po' che questa cosa c'è anche su Twitch non si può più pensare a questa roba qua poi come ho sempre detto io sono contento se faccio grandi numeri ovviamente come tutti però allo stesso tempo se il watch party mi fa du mila spettatori di sicuro non mi metta a piange sono contento che du mila persone siano rimaste lì con me a vedere un film e poi magari si siano informate su un determinato regista capo animatore sulla storia di un determinato studio eccetera la qualità è fondamentale del numero poi se fai anche tanti numeri e quel numero grosso è anche qualità buono sei un grande ma pochi ce la fanno a fare questa cosa qua di sicuro chi mi segue al pub non mi segue nel momento manga infatti siete la metà di vedere se siete al pub ma è normale ma non me la prendo mica sono contento che se mi la stronzi ovviamente in senso in senso goliadico e tutto siano andati a informarsi su questo manga e magari addirittura lo comprano cioè vanno a comprare il manga che io li consiglio è una cosa preziosissima no? buono questo è il senso della cosa ed è la stessa identica cosa che possiamo trovare qui dentro perché questa è un'opera veramente veramente di di un di un di un grande spessore magari Ideo Azuma non era il capo delle vendite non era Toriyama non era Oda non era che cazzo ne so io non era un mangaka da milioni o addirittura miliardi di vendite ma è un mangaka che delle sue disfatte ne ha fatto un racconto molto prezioso ne ha fatto una testimonianza si è fatto portavoce di tanti artisti e di tante persone che vivono un disagio e che lo vogliono comunicare che non riescono a comunicarlo e che ce la fanno solamente attraverso l'altra e lui ce l'ha fatta ha avuto anche un mucchio di culi ha avuto il culo di aver avuto successo prima quindi di avere un tetto come ho detto prima sulla testa lì ad aspettarlo ha avuto una moglie che non gli è andata nel culo ma l'ha aspettato non so come cazzo abbia fatto quella santa insomma ha avuto tanti culi ce l'ha fatta a sopravvivere in un mondo dove le malattie il cibo ha variato il tempo il gelo e tutto non l'ha ucciso non l'hanno ucciso quando ha vissuto come un clochard però allo stesso tempo è arrivato da noi è stato riportato alla civiltà ha scritto questo adesso questo qua è stato questo libro qua è stato tradotto adesso è nelle nostre librerie sui nostri siti è da portata di mano e ci può aiutare altre opere che trattano tali argomenti ma ve lo consigliate a guardare Tokyo Godfathers subito leggere Omunculus e leggere il diario della mia scomparsa può essere già molto buono ve lo posso assicurare sai cosa vi posso consigliare a sorpresa vi consiglio un'altra cosa tocca scatto da 100 metrista ah questa è una bomba l'unica inculata della mia vita in barca volume 1 e volume 2 è che non finisce questo è l'unico problema la mia vita in barca della collana Gekiga di Kokonino di mio fratello Tadau Tzuge di cui abbiamo parlato con Igor tra l'altro lo scorso martedì no due martedì fa racconta la storia di questo Tzuda Tzuda Sun che si mette a pescare cioè prende una barchetta una barchetta di legno misera e va sul fiume a pescare e di conseguenza decide di di vivere ai proprio ai margini della società lui da solo con la sua barchetta la pesca e basta nient'altro e ogni tanto delle altre persone con cui interagisce degli altri personaggi però principalmente così si prepara di tutto punto l'attrezzatura la barchetta la ricerca della carpa perfetta e parte questa è un'altra lettura molto interessante perché la mia vita in barca in un certo senso è una riflessione non solo sulla solitudine sulla vita da eremita sulla vita ai margini della società sull'atto genuino l'atto anche povero possiamo dire della pesca con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione ma anche una riflessione proprio sul senso della vita perché questo personaggio si evolve riesce piano piano a uscire riesce a interagire con sempre più persone e ad un certo punto avrà delle rivelazioni grazie a questo suo percorso in barca ed è molto bello perché ci insegna che la solitudine ok vivere ai margini va benissimo però allo stesso tempo possiamo raccogliere tantissime esperienze tantissime perle nei nostri nei nostri momenti di vita più importanti proprio grazie alle persone che incontriamo e alle azioni che compiamo è molto bello è molto bello perché a differenza di grandi storie di avventure di combattimenti all'ultimo sangue eccetera riusciamo a capire tantissime cose e soprattutto riusciamo a capire qual è l'essenza della vita la bellezza della vita stessa attraverso un personaggio che semplicemente viaggia su un fiume o decide di mettersi a pescare per cercare la carpa perfetta poi anche qui è interessante ci sono un sacco di chicche curiosità anche tanti stracci di storia giapponese veramente interessante è molto bella soprattutto è un esempio perfetto di Gekiga se volete avvicinarvi al Gekiga la mia vita in barca è perfetta tra l'altro c'è anche una piccola analisi del Gekiga stesso in fondo alla serie e conoscete Tsuge che è uno dei maggiori esponenti di questo movimento di questa tipologia di manga e soprattutto è un manga che vi può far finalmente spezzare con tutti i manga mainstream che ricalcano un po' sempre le stesse dinamiche qua di dinamiche ricalcate in cena è manco una 40 euro in totale 20 euro a volume secondo me va bene aspettate vi faccio vedere qualche tavola giustamente me le chiedete state pronti perché lo stile di di Tadao Tsuge è particolare ragazzi come vedete è molto minimale molto graffiato sporco poi ragazzi l'edizione è bellissima guardate con gli ideogrammi il rilievo tutti lucidi bello no? dai ragazzi penso che ci siamo oggi abbiamo fatto un po' come Vincenzo Filosa Filosa ha preso tantissimo da Tsuge ma non solo poi Filosa è un cazzo di mito è veramente un maestro ma non solo